Per Samsung il mondo dell'education è sempre stato importantissimo e da sempre abbiamo investito in tecnologie legate al mondo della formazione. Oggi siamo qui con il nostro partner Mr. Digital per presentare la nostra nuova soluzione education che abbraccia diversi prodotti. Noi da sempre abbiamo collaborato a stato contatto con il MIUR e con un collegio di professori e studenti che ci hanno dato il loro punto di vista e le loro opinioni. La nostra filosofia è quella di creare delle soluzioni che siano il più semplice possibile, il più intuitive possibile, che diano la possibilità di approcciare il digitale in una maniera molto più leggera e oggi lo dimostriamo per l'appunto con l'unione di diversi prodotti come i tablet, con le lavagne piuttosto che con una nuova tipologia di flip chart che abbiamo presentato proprio oggi qui in Didata. Grazie a tutti.